Pesche, albicocche, meloni, cocomere, cetrioli, pomodori e insalata. Frutta e verdura tipicamente estive, si sa, sono alleati preziosi per combattere il gran caldo a tavola. Lo dicono gli esperti e anche il nostro istinto, che ci consigliano di riempire il carrello della spesa con alimenti arricchi di sali minerali, vitamine, zuccheri semplici e acqua, che aiutano a contrastare spossatezza, affaticamento e perdita di liquidi dovuti alle alte temperature. E se da una parte a beneficiare di questo salutare carrello della spesa, il nostro corpo, a risentirne è invece il portafogli degli italiani, considerati rincari del settore ortofrutticolo nell'ultimo periodo. Secondo Coldiretti, in media, per la frutta si registra un aumento del 7,8% a giugno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, mentre per la verdura l'impennata è pari al 17,4%. Abbiamo chiesto le ragioni di questi rincari a Roberto Rampazzo, direttore di Coldiretti e Abruzzo. Questo è dovuto principalmente alla stagione, che prima era piena di alluvioni, di piogge torrenziali, oggi andiamo incontro alla siccità. Purtroppo nella Romagna, soprattutto, sappiamo tutti quanto è successo e questo ha azarato intere produzioni di frutta e di verdura. Non di poco conto è anche la siccità che sta attraversando la Spagna, vengono a mancare soprattutto patate, vengono a mancare poi le pesche. Naturalmente, essendoci poca produzione e poca offerta, il prezzo tende a salire. Il consumatore come si può difendere da questi rincari? Perché poi si sente che pesa? Pesa sì, purtroppo noi tutti i consumatori, con questo caldo, cerchiamo del refrigerio nella frutta e verdura. Abbiamo delle iniziative da parte di tanti comuni che mettono a disposizione dei singoli cittadini dei pezzi di terreno, il famoso orto cittadino, i quali si vanno a coltivare la frutta e la verdura per il singolo consumo. Forse questo è un modo anche di approvvigionarsi direttamente con frutta e verdura che loro stessi vanno a coltivare. Noi auspichiamo che i consumatori vengano anche nei nostri mercati contadini, in tutte le province, in tutte le città, per approvvigionarsi direttamente dal nostro produttore direttamente al consumatore. Ci sono prodotti che hanno subito maggiori rincari? Beh, vediamo i cocomeri, vediamo i meloni, data la poca produzione che c'è, l'altra sera ha grandinato in parecchie parti dell'Emilia-Romagna e ha zerato intere produzioni di cocomeri. Spesso quando si va alla ricerca anche del prezzo più conveniente non si tiene conto del fatto che ci sono degli rischi che si possono nascondere dietro prodotti che costano meno, che vengono da fuori e che magari non rispettano regole di coltivazione che invece in Italia tutelano principalmente la salute del consumatore. Facciamo un appello a tutti i consumatori di guardare bene che prodotto stanno per acquistare, perché ci sono prodotti che effettivamente sono a basso prezzo, però non si sa del loro paese d'origine, sembra che vengano dall'Europa. Purtroppo date le triangolazioni sono frutta e verdura che provengano da paesi in cui la sicurezza alimentare non ha quegli standard che abbiamo esempio qui in Italia. Quindi facciamo appello ai consumatori di consumare soprattutto prodotti italiani che naturalmente si avvalgano di alcuni standard di sicurezza dovute alle nostre leggi nazionali che altri paesi non hanno. Questo per la salute propria e per la salute dei propri familiari.